La Polizia di Stato Alle donne e agli uomini delle DIGOS e della Polizia di Prevenzione, che con eccezionale valore e senso del dovere, spinto anche alle estreme conseguenze, hanno profuso ogni energia nella lotta a qualunque forma di terrorismo e diversione dell'ordine democratico. Alle donne e agli uomini della Polizia scientifica, che con costante impegno assicurano la loro altissima professionalità nei servizi tecnici legati alla tutela dell'ordine pubblico e al contrasto della minaccia terroristica. In occasione dei tragici eventi calamitosi, che hanno provocato numerose vittime e danni inestimabili, gli uomini e le donne della Polizia di Stato si sono prodigati con incommiabile dedizione, grande spirito di solidarietà, nella tutela della vita umana e nel costante presidio del territorio, contribuendo ad alleviare le sofferenze e i disagi della popolazione. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, che con eccezionale valore e senso del dovere, hanno propuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-19, la tutela della salute di tutti i cittadini. La Polizia di Stato, nelle fasi anche più drammatiche della storia del Paese, ha contribuito in maniera decisiva alla coesione della nazione e ha garantito, sin dalla nascita della Repubblica, la tutela delle libertà fondamentali e la saldezza delle istituzioni democratiche, assicurando altresì i presupposti per il progresso e il benessere collettivo e dei singoli.